Questa mattina i corridoi del Santa Croce di Fano sono stati attraversati dalle forze dell'ordine, ma son di solidarietà. Poliziotti, vigili urbani e militari della Guardia Costiera hanno teso il loro braccio per donare amore, vita e speranza. Chi con il sangue, chi con il plasma, ognuno ha dato il suo contributo e sono state tante le persone in divisa, accolte al centro trasfusionale, che non sono volute mancare all'iniziativa organizzata da Aves Fano. Un dono in sicurezza è il titolo di questo Donor Day dedicato alle forze dell'ordine, iniziativa che si ripeterà anche tra due settimane. Sì, indubbiamente si ripeterà perché comunque vogliamo dare un segnale molto importante di presenza nel territorio, dialogando con tutte le istituzioni, con tutti i gruppi sportivi, con le scuole. Ci incontriamo soprattutto con i giovani, cioè noi puntiamo fondamentalmente sui giovani per gli stili di vita. Fra poco saranno loro a presentarci dei bozzetti per una rotatoria dedicata all'Aves. E questo sarà un grande momento di collaborazione con le scuole. Comandante, un contributo sociale e umano dal forte senso civico. Sì, la Polizia Locale si caratterizza proprio per svolgere servizio in ambito del territorio comunale e per la vicinanza alla collettività con la quale quotidianamente siamo in contatto. I principi e i valori in base al quale svolgiamo la nostra attività ben sono in linea con le donazioni, come segno proprio tangibile anche di quel valore di solidarietà. Non a caso, già con l'attuale Presidente, abbiamo concordato un incontro presso la nostra sede per il prossimo 15 marzo, perché già vantiamo dei donatori all'interno del Comando, ma vogliamo estenderli anche in virtù delle recenti assunzioni che abbiamo avuto presso il nostro Comando. Per questo abbiamo organizzato un incontro suddiviso tra mattina e pomeriggio per consentire la più ampia partecipazione di tutti. E chiudo proprio con questa puntina di orgoglio, se mi concedete, di essere la comandante di un corpo che già al suo interno vanta diversi donatori, che qui pubblicamente ringrazio, e sono certa che dopo l'incontro altri se ne aggiungeranno. Se posso chiedere, lei quante donazioni ha fatto? Ah, ahimè, abbastanza, anzi, senza ahimè. Per fortuna ne ho fatte tante, 119. Ho cominciato a 18 anni, qualche giorno fa, e sono stato sempre abbastanza bene, ringraziando Dio, e quindi ho potuto donare sempre. Sono felice di questa cosa. Quindi fino a quando potrà, lei continuerà a donare? Certamente, certamente. Che cosa l'ha spinta? Ma io andavo a scuola, è venuto l'allora primario dell'Avis, nello scherzo della scuola in Aula Magna, ha fatto proselitismo e con i miei amici ancora siamo sparsi per l'Italia, ma doniamo tutti, insomma. Si dona agli altri, ma anche a se stessi. Che cosa si sente? Come si sente dopo la donazione? La donazione è un atto meraviglioso, è un atto di disponibilità verso gli altri, da un punto di vista etico, sociale, religioso, filosofico, da qualsiasi punto di vista uno possa avere il proprio cuore, anche dal punto di vista del mio lavoro, come appartenente alla Polizia di Stato. E poi siamo controllati, siamo seguiti. L'Avis è una famiglia, cioè siamo veramente coccolati dall'Avis. Questo è molto bello. Comandante, è la prima volta che dona qua a Santa Croce? No, in realtà sono già donatore di sangue, anche nella mia precedente esperienza di servizio in Sardegna già donavo il sangue e anche qui a Fano ho voluto continuare sul solco della mia precedente esperienza da donatore. Che cosa l'ha spinta all'inizio a prendere questa decisione? La donazione è un gesto di grande amore e solidarietà. Quindi sicuramente la Guardia Costiera, assieme poi agli altri colleghi amici delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, si fa promotrice di questo valore di solidarietà, di altruismo. Ed è proprio attraverso questi valori che la nostra attività quotidianamente viene svolta. Quindi io ringrazio per questo gesto e per questa occasione sia i medici, i volontari e il presidente di Avisfano per questa importante opportunità al servizio della collettività.